Benvenuti o bentornati a un nuovo video, io sono Cina Biondo, oggi vi porto Mono White Aggressive, Mono White Aggro. Questo mazzo nell'ultima settimana ha dominato tutti i tornei che ci sono stati. Ha dominato lo Star City Games, in quanto ha vinto. Ha fatto molto bene anche lo Channel Fireball Showdown che ho vinto io, in quanto il secondo in classifica era questo. Ce ne erano ben due in top 8. Inoltre ha fatto molto bene anche Left 2K Invitational, un torneo dove hanno invitato content creator forti, come il nostro italianissimo Adelmo, e pro fortissimi come Luis Salvatto, Magic Pro League, Player of the Year, eccetera, eccetera, eccetera. Il suo curriculum parla da solo. Vi ricordo che, essendo un gameplay, è sponsorizzato da Multiverse of Games. Guardate in basso a destra. Tutti i link sono in descrizione, la lista del mazzo è in descrizione. Come al solito, cliccate su Mostra Altro. Lo so che è un po' piccolino e sembra che vi apre una pubblicità, ma non è così. Bene, vediamo subito cosa rende il mazzo così forte. Innanzitutto, il monocolore. Il monocolore lo rende super super solido. In quanto non corriamo il rischio di farci mancare un colore, no? Ha un sacco di drop a 1. Per l'esattezza, 4, 10, 13, più 2, 15. 15 drop a 1. Questo mazzo si focalizza sul fare il pezzo il primo turno. Sono poi tutti pezzi fastidiosi, perché il selfless savior, se è sacrificato, permette di salvare una nostra creatura dalla distruzione. Poi, al Saeed, se la sacrifichiamo e paghiamo 1, riusciamo a dare protezione a una creatura, un incantesimo che controlliamo. Protezione da un colore. Quindi, riusciamo a salvarci, per esempio, i pezzi da Claim, che è la carta che ci dà più fastidio. Giant Killer, eccola qua. Questo serve per spaccare le creature grosse e per tapparle, quando lo facciamo come creatura. Dopodiché anche Lusher of the Fallen. Questo era forse un drop a 1 aggressivo che mancava al monowhite. Per renderlo veramente competitivo, in quanto un 2-1 costo 1, che lo so che non si legge, ma un boost. Praticamente paghiamo 2 e creiamo un bel soldato 1-1 token che rimane in campo bianco. Dopodiché Sentinel's Eyes. Questa è una carta che serve per pompare. Comunque Contro Rogue rimane forte, perché se c'è la milla, noi riusciamo anche a svuotarci un po' il cimitero. Quindi, una carta super solida, super utile e super sinergica con questo mazzo che tende a picchiare. E a picchiare c'è Luminarch Aspirant, che serve per pompare le nostre creature. Adesso la nostra combat phase, mettiamo un segnalino più 1-1 su una creatura bersaglio, che vogliamo noi anche lei stessa. E anche le terre. Seasoned Hollow Blade, questo è il drop a 2 sodia di Delmo, che è più fastidioso e più agro di tutti. In quanto un 3-1 costo 2. Scartiamo una carta, la tappiamo, diventa indistruttibile fino alla fine del turno. Quindi, questa picchia, è difficile da togliere. E poi 3-1, questo body di 3-1, wow, wow, wow. Questa picchia un sacco e a volte blocca anche un sacco. Il Martellone. Mole of the Sky Claves. P2-P2, volare e attacco improvviso, una creatura bersaglio. Una creatura equipaggiata, scusate. E quando è stato su cambio di battaglia, si attacca in automatico una creatura. Quindi questa, attaccata a questa, vuol dire 5-3 e vuol dire che in 4 giri vinciamo la partita. Raiden God of Worthy. Questa è una di quelle carte che io tendevo a sovravalutare un po'. Però, comunque, è una carta molto molto utile, in questo tipo di mazzo. In quanto un 2-3 costo 3. Volare e cautela. Cosa molto forte. Dopodiché, le terre neve del nostro avversario entrano in campo tappate. Attenzione, questa è una cosa che non da sottovalutare. Le bagie non creature che costano 4 o più, costano 2 in più. Quindi, le vratte costano 2 in più, per esempio. Quindi, serve per rallentare un'eventuale spell decisiva da parte del nostro avversario. Anche Binding of the Old Gods. Tutto ciò che dice da veramente fastidio. Acro on War, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è proprio forte, forte, forte. Girato, non lo faremo molto spesso, però può capitare. Se una fonte deve infliggere danno, ce ne infligge uno in meno. E poi, ogni volta che noi o un permanente che controlliamo viene bersagliato da un'abilità del nostro avversario, la possiamo neutralizzare, a meno che lui non paghi uno in più. Poi, Skyclay Vaparition. In ogni mazzo bianco che si rispetti, questa rimozione è per eccellenza. In quanto a 2-2 costo 3, che vi ricordo che, quando entro scopri battaglia, esiliamo qualsiasi permanente non terra e non token, chiaramente, che costa 4 o meno. Quando muore, al posto di ridargli la creatura che abbiamo esiliato, fa una cosa bellissima, che gli diamo una creatura vanilla, quindi che non fa niente, XX, al posto di mano è convertito di quella creatura. State un po' attenti, a volte, a delle combat un po' strane. Quindi l'unica cosa è quella, però di base. Comunque questa è molto protetta, perché abbiamo il cagnolino e il Said. Abbiamo Legion Angel. Questa è una carta che può far cambiare le partite, in quanto è un 4-3, che quando entra sul campo di battaglia, possiamo cercare un Legion Angel fuori dal gioco, quindi inside, e prendercelo in mano. Quindi facciamo, per un bel po' di turni, questo 4-3 volante, che è molto ostico per un sacco di mazzi. Eccola qua, Alvar. Questa è una carta che ho super sottovalutato, super sottovalutato, in quanto la ritenevo una carta un po' meh, un po' bimbo. E invece no, è un 4-4 costo 4. Un leggendario. Dio. Le creature incantate, o equipaggiate, che controlliamo, hanno doppio attacco. Quindi, sulla scurvata, droppa 1 cagnolino, 3-1, martellone sul 3-1, questo gli dà doppio attacco. Quindi vuol dire che, di quarto, potenzialmente facciamo 10 danni. Così, pam! Se l'oppo non sta attento. Poi, all'inizio della nostra fase di combattimento, possiamo attaccare un'aura, o un equipaggiamento già attaccato, una creatura che controlliamo, su un'altra creatura che vogliamo. Quindi, serve anche per fare questo giochino qua, no? Bellissimo. Questa è proprio una bella carta. L'avevo sottovalutata, però, per il discorso degli equipaggiamenti. Però, figa, figa, figa. Anche perché girata la facciamo anche... Anche essa girata la facciamo anche qua, molto spesso. Perché da più 2-0, una creatura bersaglio equipaggiata, e gli dà cautela. Dopodiché, se la creatura equipaggiata muore, al posto di morire, ci torna in mano. Questa è una cosa non da sottolotare, e molto, molto importante, per molti mazzi. Per molti casi. Per molti casi. Magari lo possiamo mettere anche su un cagnolino. Un cagnolino che sacrifichiamo per salvarci un'altra creatura. E poi la facciamo ritornare sul campo di battaglia. Eh oh! Queste... Sono tutti questi piccoli trick che questo Mono White fa. Dopodiché giochiamo i nostri 18 terre, base, più il castellino, e giochiamo Faceless Aven, il 4-3. La terra che si anima in un 4-3 con cautela. Cautela è fondamentale in questo mazzo, perché abbiamo outside, che gli serve un mana per proteggere le nostre creature. Questo qua è un mazzo veramente agro, che batte i mazzi agro spinti, e che in questo meta sta dominando. Quindi, o lo giochiamo, o ci giochiamo contro. Quindi, ragazzi, iniziamo a giocare, a vedere com'è. Bene, sta mano, la prima mano, da Mulligan. Vabbè, questa... Questa va bene, dai, va bene, va bene. Partiamo noi, terra a passo. Abbiamo il nostro Halo Blade, che è la creatura più molesta del formato. 3-1? E fammi sto 3-1, io te faccio un 3-1 pure io. Giuro che le prendo. Ok. Ah. questa HK sotto, eh. Vabbè, io te ne faccio 5, te ne giro 5. Non ha neanche Bone Crusher, come pensavo. Bene, meglio. Questi sono 4 giri e vinciamo, eh. Arni. Arni, bella, bella carta. Prendo. Vuole vincere la race. Oh, però, eh, eh, no, non peraltro, eh. Un'altra, no, non la facciamo. No, non peraltro, però un altro droppino lo vorrei fare, eh. Ho un altro martellone. Martellone no, però un altro pezzettino lo vorrei fare. Eh, blocco qua. Non penso che lo bosti. Va bene. Ma che devo dire? Vabbè, io faccio un altro giro, ho vinto. Alvar for the win. Si, 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 diamo il double strike. Si, 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 caro mio. Win. Vabbè, questa se tiene, no, droppa 1, droppa 2, droppa 3. Vediamo chi è. Ah, RB. RB sacrifice. Allora, sto un po' attento, preferisco fargli subito questo. Mi serve una terra in più perché vorrei fare lui protetto da lui, così non me lo faccio rubare di claim. E infatti, 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 ho beccato che eri. Mi toglierei il savior, che tanto non mi serve. Ah, se qua non pesco terra, eh. Qua, mi sembra una bella race, così, dai. Eh, purtroppo questo, non protetto da lui non me la sento tanto di farglielo, sono sincero. Ok. Bene. Credo che contro Rakdos sia un brutto matchup, Rakdos. Dai, dammi la sta terra. Vabbè, mettiamo questo qua. Questo di qua. se picchia. Eh, bloccherà l'1-1 e poi passano tre. E così non è male. Quindi, lui, lui in realtà è Fortel. Fortel RB. Va bene. Snow. O Particolo Air. Diciamo che devo pescare una terra e lo mando sul Saturno. Tra lui, protetto da lui, e poi martellone, Apparition. Anche Apparition, eh. Restiamo umili. Ok. Fortella. Più due, più zero. Mai una gioia. Mai. Na. Gioia. Vabbè, cerchiamo tutto. Va bene. A questo punto io lo facciamo. Lo stagionato. Il Delmo. Uguale. Cazzo no. Pazzesco. Poi, tra l'altro, con questi colori qua, non so cosa possa fortellarmi, sono sincero. Tra l'altro, li sconta pure di due, quindi, veramente non so. Ah, va bene. Ok. Grazie. Grazie. Vabbè, trappa uno, trappa due, trappa tre. Se tiene. Manoforte. Il Delmo. Ah, Mirror. Va bene. Allora, vi faccio la linfa. Ok. Ah, no. Lui è Boros. La versione è Boros. Quindi c'è ora Boncrash. Esattamente. Va bene, va bene, va bene. Ah, io ti faccio Delmo. Fa troppo ridere. Poi facciamo Maglio. Attacchiamo Maglio su quattro giri. Eh, l'hai fatto. Eh, sinceramente preferisco metterli sopra il Maglio. Potrei anche non attaccare? Però se non attacco mi fa SkyClave o mi manda su Marte quindi preferisco fare gli sti cinque danni. Dai. Piuttosto, piuttosto gli facciamo doppio blocco il turno dopo metto doppio di questi. No. terra doppio Delmo. Piuttosto faccio così. Oh, faccio lo cazzo. Ma il mio rimane comunque più forte. Ok. Va bene. Vuoi giocare duro? Giochiamo duro. Allora facciamo così. Io metto questo qua. Poi te le faccio pure un altro. E te lo giro. con due giri. Speriamo che non apparition. Sperando che non abbia apparition qua stiamo messi ok, bene. Anche al varco a pescarlo non è male. Sì. blocco, zì. Ti giuro che una carta me la sacco. Eh, vabbè, anch'io mi scarterò una terra. Vabbè, ci guadagno sempre io, no? perché così sono letali. Sono nove danni letali. Anche di più. Va bene. My turn. Eccolo qua. Erdio. Erdio. Eh, sì. Ma proprio quell'effetto lì, zì. Ce l'abbiamo quattro danni su questo? Perché se non ce l'abbiamo brutta qua, eh? Eh, sì. Minchia. Il dio. Oh, no. Gli davo due centesimi? È una carta della madonna. Dai, si chippa, si chippa. Dai, non mi sembra una mano così brutta, dai. Noi facciamo terra season ed poi la peggio li facciamo lui. Mono nero? Che mazzo è col nero? Ah, ho rogue. Non è anche rogue. Mono nero. Mazzo vero. Ah. Ah, se la versione gondrol. Va bene. Terra molto bene in realtà. Per fargli anche uno skyclive apparition. Però, secondo me fargli raidain non è male qua. Ma almeno rilalento le vrate extinction event di uno. questi sono tre. Poi, se facciamo un mana in più farei lui in tu qua. Bella, che forte. Va bene. Bene. Sapete che farei quello... Faccio quello umile? Preferisco equipaggiarlo. Bottom, va bene. Oh, così c'ho cinque. Altri tre giretti e sei morto. Extinction event. Fa uno per uno, va bene. Farebbe uno per uno quindi andrebbe pure bene. Per umano me lo devi fare. Secondo me. pesca. Io illuminarca io lo faccio. eh, almeno così sono solo due giri, no? Facciamo solo due giri invece che tre. Sai che te dico? Ma mica mi la scarto la carta. Tanto mi torna in mano. Sai che te dico? Questo lo metto qua su. e alla peggio lo attacco con le creature. Dite che era meglio animare la terra? No. No, non credo. No, no, no. Non credo che fosse meglio animare la terra. Ci sto pensando, eh. Va bene. Questo fa mano, no? No. parte per il fatto che gli rimane. E poi questo qua da meno non le faccio rampare. Nel prossimo turno sono letalissimi, no? No. sono belli letali. Deve avere veramente tante rimozioni. Va bene. Pari o dispari? Pari. Va bene. Non moriamo. Ok. GG. 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 Proprio fluido. Fluido. Beh. 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 Si può giocare con questa mano, dai. vai, uno, uno, uno. Vai, uno, uno. Verde. Lui è verde. E allora io te faccio savior, savior, attacco. Poi gli facciamo martellone. Partenza triplo droppa uno. Sempre forte. Uh. Uh. Raga. No, no. Qua attacco con tutto. Ah, non ce l'avevi il bone crusher. Ah, mi hai fregato. Pensavo avessi il bone crusher, caro. Va bene, va bene. Mammut. Eh, l'hai fatta. Mamma mia, mammut. Come posso gestire mammut? Ops. Così. Bababia, come picchiamo. Mamma mia, come picchiamo. Bam, bam, bam. Vai. Il prossimo turno letali no. Però. quest in beast mi farai. Vabbè, l'hai fatto. L'hai fatto. Prendi questi quattro danni. Ai, ai, ai. Uh, uh, uh. Questo è un top deck importante. Sì. Vai, caro. Due minuti. Mamma mia, l'ho spaccato in due, poverino. Il pocciola vezzi. Eh, vabbè. Non è una mano super top, ma si può giocare. Contrano gli Orion deck. Partire già di outside mi sembra forte. belle queste buste. Vabbè, terra 1-1. Easy. Penso di fargli cagnolino in tu sentinella. Eh, dobbiamo fargli race. Eh, lui mi sa che è sperone, lui, eh. Quindi c'ha glass casket. Quindi forse non l'ho fatto benissimo. Eh, Agonizing Remorse, qua me lo becchi. L'hai beccata, l'hai beccata. Mai beccato. Vabbè, qua è l'ora e ti butto tutto. Beh, tre danni. Mancano tipo dei paletti a sto deck. Vabbè, però già così non è... Ah, Mardu? Mardu, 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 Mardu. Avrai buon Crusher, penso. Proprio un Crusher lo gestisco bene. Boh, io giro tutto, no? Ma sì, giriamoli tutto. Poi fare i Skyclave allora a sto punto non è più bellissimo. Beh, dipende, dipende. Extinction Event, tutto a costo 1. Eh, questo mi fa male. Questo mi fa male qui. ci può stare fare cagnolino? Perché se mi fa 4-3 io gli faccio Skyclave. Se mi fa Doom ho perso. Se mi fa Doom ho perso. purtroppo. Purtroppo. Eh, contro i mazzi control così facciamo fatichissima, non facciamo fatica, facciamo fatichissima. ci proviamo. Ci proviamo. Giriamo per 1. Lui è 9, eh. Martellone. Con un martellone non sarebbe male, eh. Martellone Dio e Dio bianco. Cioè, buona, Non sarebbe così brutta la situa. Uh, salta l'endrop. se devi saltare l'endrop io avrei pescato. In upkeep mi vuoi fare la rimozione? Ci può stare. Vabbè, io me lo salvo sicuramente, no? Devo per forza riendo... Cioè, non gli regalo nulla. Dovrà sicuramente un'altra removal in mano. Io devo per forza giocarmela così. Uh, cagnolino on top. Che gi... Che sculone. Che sculino. Che sculino che sono. Dai, 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 dai. Dai che sono due giri. Dai che sono due giri. Se non riprende in mano Iorion è pieno di remurca. Vabbè, pesco 4, è forte. Vabbè, rimozione. Sicuramente ce l'aveva. Martellone for the win! Martellone for the win! Incredibile! Incredibile! Che sculata! Che sculone! Martellone for the win! TAC! Però poverino, lui si è incastrato di terra. Mamma mia! Martellone for the win! TAC! TAC! La scuola! Martellone for the win! L'alola for the win! Io ti ho ho capito! TAC! TAC!